Ciao a tutti ragazzoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui nuovamente con qualcosa di nuovo riguardante il mondo dei tatuaggi, ma non sarò qui a parlarvi di stili diversi di tatuaggi, ma oggi voglio reagire ai tatuaggi più brutti qua trovati sul web. Ma prima di iniziare voglio ricordarvi di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link, di seguirmi qui, se ancora non l'avete fatto, e di attivare la campanella delle notifiche. Voglio semplicemente dire che questo video non è fatto per offendere nessuno, è un video gogliardico per ridere, soprattutto su tatuaggi fatti male, perché non si possono chiamare tatuaggi, e anche per far capire alle persone che comunque per avere dei bei lavori a volte bisogna comunque affidarsi a qualcuno di bravo e non qualcuno che lavora in casa e ti fa cose a cazzo, oltre che si rischiano infezioni. Mi raccomando ragazzi, ma ora possiamo iniziare. Eccoci qua ragazzi, siamo sulla pagina Fanny Pig, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ho trovato questo video dei peggiori tatuaggi di sempre. Non so se andremo a vederlo tutto, anche perché dura 13 minuti, e col mio commenterei diventerebbe 40 minuti conoscendomi. Quindi andiamo a vedere un po' di tatuaggi. Io non l'ho ancora visto, quindi mi sto affidando al caso. Vediamo cosa troviamo. Allora, i peggiori tatuaggi di sempre. Allora, questo è il primo. Cerchiamo di capire se... Ok, qua dice che un ragazzo ha provato a copiare il suo tatuaggio. Ha copiato... Oddio, lo sto notando adesso. Cioè, ha cercato di copiarlo in brutto modo, ma ha copiato anche il capezzolo. Cioè, gli ha portato... Non so se il tatuatore, penso, abbia fatto comunque dalla foto che gli ha portato uno stencil o qualcosa del genere, e gli ha disegnato... Gli ha tatuato anche la forma del capezzolo. Cioè, non ci posso credere, ragazzi. Assurdo. A parte che il lavoro sta venendo male, o se l'ha finito è venuto malissimo, ma gli ha copiato anche il capezzolo sul braccio. Pensando ad andare in giro con una bella legge, è facilmente copribile, però è proprio la stupidità di chi sta facendo questo lavoro. Ma andiamo a vedere cosa c'è dopo, ragazzi. Ok, qua vedo solo una brutta infezione oltre un... Cos'è? Cioè, tipo una frittata multicolore spaziale di qualche altro pianeta? Doveva essere un cuore? Non capisco tutti quei colori e vermicelli dentro. Boh, a parte che, vabbè, l'infezione gli verrà, anche perché penso l'abbia appena finito vedendo la maglietta come è conciata. Ah no, ok. C'è scritto sotto, scusate ragazzi, non avevo letto. Ero in fissa sul tatuaggio. Dovrebbe essere una galassia. No. Sembrava tutto meno che una galassia. Comunque penso lì l'abbia appena finito il lavoro, visto lo schifo che ha sulla maglietta. Non si è neanche premurato di coprirle da un minimo? Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è dopo. Oh, questa è fantastica, ragazzi. Questa è fantastica. Allora, questa tigre gira nel web da secoli e secoli. Tant'è che una volta volevo fare una scommessa o avere in un vecchissimo mio video, se avessi raggiunto, adesso non mi ricordo, tot visualizzazioni o tot like, quindi cosa impossibile per il mio piccolo canale, mi sarei tatuato da solo questa tigre su una gamba o qualcosa del genere. Ovviamente rimpicciolita comunque solo la testa, ma fa troppo morire. Cioè, non so se avete mai visto, adesso ve la trovo e ve la metto qui. I tigri bianchi, se non sbaglio, le tigri con la sindrome di Down. È uguale. Il viso è quello. Poi avercelo sulla schiena e ovviamente fatto in questo stile direi che, non lo so, c'è sicuramente tanto, tanto, tanto lavoro da fare, sia per il tatuatore che anche a questa persona. Poi non capisco, c'ha un occhio che sembra che ha un po' di ombretto così sbaffato. Andiamo a vedere il prossimo. Il gioco unisce i puntini? Qua dici che dovrebbero essere forse delle stelle fatte così, nere. Pensavo all'inizio volesse fare tipo delle lentigini che vanno molto di moda sul viso e c'è chi comunque se le fa anche magari sul collo e è un po' più... Ma no, cioè, non lo so, sembra che è scoppiata, che gli è scoppiata una penna addosso. Perché devi farti una cosa così? Non ci sono parole per descrivere questo brobrio. Unirei i puntini. Dovrei veramente unire i puntini e vedere cosa ci viene fuori. Bam, ragazzi, ci troviamo qua con un'altra tigre. Questa è ancora più bella. Questa sono convinto che sia stata fatta apposta, però. A parte che c'ha tipo due occhi, ma poi ne altri. Sembrano mille, perché sono righe, ma sembrano... Cioè, le strisce, ma sembrano occhi. Questa è fantastica. Poi è piazzata lì proprio nel petto, che ti prende tutta la parte del petto, che potevi fare un lavoro fantastico. Non lo so, sembra un quadro d'arte astratta. Poi non so se state notando, ma il naso... Cioè, guardate la forma del naso. Sembra un cazzo. Cioè, proprio... Sì, direi. Bam! Marilyn Monroe. Il tatuaggio è così, mamma mia. A parte è nerissimo. Poi gli ha messo quelle rose, che non ho capito se c'erano già e hanno fatto uscire la testa da dietro le rose, o hanno fatto le rose perché il corpo stava venendo malissimo, non era in grado di farlo, quindi ha deciso di farlo in qualche altro modo. Neanche le rose è in grado di farle. Niente è in grado di fare, ma è una cosa orribile. Cioè, non sembra nemmeno lontanamente lei, ma neanche con la foto messa vicino, che sta a dimostrare che dovrebbe essere lei che ride così... Fantastico, fantastico, ragazzi. C'è sempre qualcosa da imparare. Qua vediamo un'incredibile e bellissima Angelina Jolie, ritratto, un po' deforme, c'ha la testa tipo che sguiscia da un lato. Sembra che sta mangiandosi, non si sta mordendo un labbro, si sta proprio mangiando. E' tutta deforme, e lei è così bellissima, l'hanno rovinata. Cioè, boh, assurdo, veramente. Ma è tutto sbagliato. Anche le sopracciglia le hanno fatto belle. Cioè, voglio lei perché è fantastica, fammela qui. Voglio un ritratto di quelli mai visti prima d'ora. Il lavoro eseguito correttamente, mai stato visto un ritratto fatto così. Mi sa che non la commento neanche questa. Anche questo, un altro ritratto, probabilmente della moglie, della madre defunta. A parte che tipo, là in alto sui capelli, dove c'è la scritta, broken, c'è scritto. E' proprio tutto broken lì. Tipo, c'ha l'acquetta che li sta buttando fuori. Poi mi immagino come sarà quando è guarita una roba. Cioè, una roba così. Cioè, già fa schifo. E' allucinante, non c'è nulla di giusto. Ma è proprio uno scarabocchio come quello dei bambini, sapete? Col pennarello scarico, no? Tipo, che non lascia più giù il colore. Uguale, uguale. Oh, a Facebook friend. Want a very specific tattoo. Sì, neanche le rondini, i piccioni, gli uccelli. Chiamateli come volete, non li ha fatti uguali. E quello non sembra neanche un albero. Sembra tipo un'arma di distruzione di massa. Tipo una trivella con mille punte. Qualcosa un po' venuta fuori da, avete capito, Giappone, anime, ma non anime. Qualcosa di... ecco. Allora, anche questo. Ci sarebbe da fare un video specifico proprio su questa cosa. Ovviamente non potrei tradurli io perché non parlo né giapponese né cinese. Quindi qui ha fatto una scritta come molti sbagliano perché ormai è risaputa la cosa. Non ti puoi far tatuare una cosa in una lingua del genere. Già sbagliano con l'inglese, cioè nel senso, pensa in giapponese o cinese. A meno che tu non te lo faccia fare da un giapponese o da un cinese di cui tu possa avere fiducia. Non fatevi queste cose. Veramente... Madonna mia! Pensa avere questa cosa sulla schiena per il resto della vita. No, ditemi che hai fatto a pennarello. Dovrebbe essere la bambola assassina, vero? Sicuramente è stata sfregiata, ma anche in malo modo. Però ditemi che hai fatto a pennarello, vi prego. Cioè questa ragazza avrà per il resto della vita sta cosa. E per coprire una roba del genere devi fare una cosa molto colorata e enorme o nero, proprio spianato via. Dio, dio, assurdo. Questa è una genialata. Anche questa l'ho già vista un sacco di volte girare sui social. La foto era diversa. Qua è fatto su un aereo. Vabbè, nel senso... E si è tagliato i capelli come sopracciglia e come baffa. È brutto il disegno perché è brutto e anche l'insieme. Cioè farti una roba così, cioè devi proprio essere fuori di testa e fregartene della vita e del mondo in sé. Però, nel senso, almeno è simpatica. Questa ancora peggio. A parte che, cioè non capisco, sto tipo si è fatto questo troll orribile come cosa, ma perché ha quel mazzetto di peli che gli esce da solo qua? Cioè vorrei capire, sembra una scella. Cioè sono i peli da sotto la scella ma ce li ha qua lui. Ora, o sei tutto peloso o c'ha un'esplosione di peli lì. Si chiamano troll? Sono i troll? Sono i troll questi qua? Non me ne ricordo. Ma c'erano i giochini quando ero piccolo. Vi metterò una foto se la trovo. Bam! Questa è una fantastica tigre con... Non so che problemi abbia al naso, appunto una vespa probabilmente. Poi è misto a rose. È un po' una tigre-gatto baffuta. Bello, era più bello visto su un foglio magari. Potrebbe essere qualcosa di strano da caricare su Deviantart, diciamo, ma no. Altre tigri. Ho capito che le tigri vanno di moda e qua è una tigre avvolta in dei cerotti. Cosa sono quei cosi? Dovrebbero essere dei petali di fiori. Poi c'ha un occhio qua e un altro qua. Se capite cosa sono quei cosi scrivetelo qua sotto, ragazzi. Quando ho deciso di riprodurre la banconota americana e no, non è lui. Ovviamente sotto l'hanno riprodotto come il tatuaggio. Money Talks. Penso che il ragazzo che si è fatto tatuare o la ragazza, penso un ragazzo vedendo i peli, speriamo, non abbia avuto money per andare da un tatuatore serio, penso. Ecco qua l'ennesima ragazza che voleva farsi fare il coniglietto di Playboy ma non gliel'hanno neanche finito anche perché il fiocchetto... Beh, grazie a di... Cioè penso che lei quando l'abbia visto gli abbia detto ti prego fermati, non continuare, lascialo così. Ormai non ho capito se... Non so, gli è passato uno, poi due volte, poi tre volte a pezzi e l'altra orecchia invece si è sgonfiata. Non gliel'hanno finito, manca l'occhio se non sbaglio. E si manca tutto, ma poi tipo gliel'ha scavato dentro, ci sono dei pezzi che sono fondissimi e sicuramente lì il colore, contando anche il punto, che è una zona in cui comunque che si piega, il colore gli esploderà dove gli è andato così a fondo. Cioè verrà tutto blu intorno. Bam, l'ennesima... Non so se è una tigre, se è un babbuino o un qualche... Cos'è? Soprattutto quei peli e capelli in testa che mi fanno un attimo ridire su... Qua scrivono sotto un leone, col punto di domanda appunto. Potrebbe essere una mega criniera, quei ciuffetti in testa, non ha il naso, poi sembra... Sapete quelle foto quando vi scattano che vi girate di colpo così che venite sfocati? Ecco uguale, la faccia è quella. Bam, qua hanno fatto l'Happy Meal. Questo è simpatico, non è eseguito ad hoc, però è simpatico. Sicuramente per qualcuno di abbastanza stupido per farsi il popazzo di McDonald's. Il pagliaccio di McDonald's, scusate, con le patatine infilate nel perizoma. Però va bene, meglio di tutti gli altri. Che problemi ha sto Pikachu? No, sono morto. Così che si stringe le l'aula, non so se sta sforzando per cagare o... E poi il mento, gli hanno fatto il mento alla zenigata. Anche quella sopracciglia un po' così. Questo è fantastico. Lo userò come miniatura del video, ragazzi. Allora, questo ragazzo per 30 minuti gli ha detto che mi paccava veramente un pezzo dietro la schiena. E voleva un cuore con un coltello e delle ali di Angelo. Angel wings. Le ali sarebbero quei due cosi che sembra... Sapete i bambini quando disegnano gli alberi natalizi che fanno le punte così? Ecco. Il cuore sembra un culo. Perché è parlenesemente un culo con un dildo ficcato dentro. Ma va bene. Però questo non è tatuato, mi auguro. Non sembra. Perché sarebbe una cosa spaventosa. E chiuderei in bellezza, visto che penso che si sia già fatto un po' lunghino il video con questo. Sopra c'è anche il commento. Dice semplicemente, mio Dio che male. Sarà epico a sfac pure una volta che è finito. No. Non è epico adesso e non sarà epico nemmeno quando sarà finito. Cioè, non lo so, la parte sopra sembra una cozza che si sta aprendo, tipo qualcosa del genere. Non lo so, non sembra proprio una medusa e non sarà assolutamente figo e epico quando sarà finito. Ma eccoci indietro, ragazzi. Spero che questo video spaventosamente orribile vi sia piaciuto, orribile riguardante i tatuaggi. Spero che il video sia stato bello. E se così fosse lasciate like e commenti sotto, ragazzi. Ve ne porterò altri se vi piaceranno. Magari cercherò appunto quelli sulle scritte in giapponese e cinese. Andremo a reagire anche a qualche altro video del genere. Voi fatemelo sapere qui sotto. Vi ricordo ovviamente di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link. C'è anche, come già detto, il link PayPal. Se volete dare una mano al canale, ovviamente i soldi saranno tutti usati per attrezzature varie, per i miei vlog, per i miei video, eccetera, eccetera. Vi ricordo anche di seguirmi qui se ancora non l'avete fatto. Di attivare la campanellina delle notifiche, perché se no vi perdete video. YouTube non aiuta a mandare video. Soprattutto un canale piccolo, ovviamente. Non avendo milioni di like e commenti, il video va un po' a nascondersi. Quindi aiutatemi anche con questo. Non saprei che altro giungere, ragazzi. Nient'altro. Bella! Grazie a tutti.